Ben trovati ad un nuovo appuntamento con Osgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi ti porto nel mondo dell'aggregazione, dell'aggregazione di nuova generazione. Con me infatti c'è Dennis Andrian, direttore generale di XP Italy. Ciao Gerardo. Ben arrivato, grazie per il tuo tempo. Grazie per l'invito. Allora partiamo subito insomma diretti, come XP vuole impattare nel mercato immobiliare? Così XP anche magari prima, così vediamo cos'è XP. Esatto, magari dai. Allora, XP è una comunità di agenti immobiliari, agenti e agenzie immobiliari, che sono connessi attraverso una piattaforma in cloud e intermediazione immobiliare. Questa piattaforma opera a livello globale. Quindi la piattaforma è costituita da un modello e da una proposta di valore. Il modello è costruito per ogni mercato, infatti su 24 paesi dove siamo presenti non abbiamo mai cambiato il modello da quando è nata l'azienda. È costruito per l'agente immobiliare, perché XP è fondata da un agente immobiliare. È costruito per lo sviluppo di comunità e soprattutto è costruito anche per il futuro dell'agente. Quindi nell'ambito dell'impatto, diciamo, che ha più che avrà, che ha già avuto e che ha a XP, in realtà si basa su quello che è proprio anche la proposta e valora che è incentrata sull'agente, quindi che sono i nostri tre cardini, la ruminorazione, la comunità è cloud-based. Questo ha portato a cosa? Ha portato gli agenti ad avere una migliore, diciamo, un aumento della professionalità nei loro casi, perché a livello di formazione i nostri agenti hanno circa 300 ore di formazione appena entrano all'interno di XP e aggiornamenti settimanali. Soprattutto sono collegati con la rete internazionale e questo modello, noi diciamo sempre che è fatto per l'umanità, è fatto per i nostri agenti, che permette loro una cosa fondamentalmente di gestire completamente il loro tempo, di aumentare le loro opportunità finanziarie. E l'altro impatto in realtà è verso il cliente finale. Quindi il cliente finale, quando interloquisce con un agente XP, non interloquisce con un unico agente locale, ma in realtà dietro a sé, a questo agente, c'è una comunità di agenti immobiliari nazionali e internazionali, quindi affidare un incarico con un agente XP significa dare un incarico a una multinazionale che sa lavorare su quell'incarico. Ok, breve parentesi. Oggi, se non ricordo male, 87 mila consulenti al mondo. Esattamente, 87 mila consulenti. XP è quotata al Nasdaq. Quotata al Nasdaq, esattamente, dal 2018. Dal 2018, quindi insomma una società che ha una sua stabilità. Una sua stabilità, una sua struttura. Non abbiamo un euro di debito di affidamento bancario, quindi opera con il proprio denaro. Questo ritengo che sia molto importante. Tanta roba, come si dice. Allora, parliamo un po' dei vantaggi, diciamo, direttamente ottenibili dall'agente immobiliare attraverso questa piattaforma di mediazione immobiliare. Mediazione immobiliare, esattamente. Ho detto prima il discorso della proposta a valore basata sull'agente. Quindi, dicevo, remunerazione, il primo pilastro. I nostri agenti percepiscono, anzi hanno uno storno immediato del 75% netto della propria produzione e arriva fino al 100% in un momento in cui hanno raggiunto un certo livello di fatturato. Il famoso cap, che in Italia talvolta non si capisce. Si fa fatica a comprendere. Parliamo meglio di fatturato. Ho raggiunto un fatturato, oltre a quel fatturato, nell'anno trattengono il 100% della commissione prodotta. E poi abbiamo un sistema di ripartizione della quota ricavi e questo viene dato agli agenti grazie al fatto di cosa? Che loro vanno a creare una rete, hanno l'opportunità di creare una rete in ambito locale o nazionale, e poi anche internazionale, in cui attraggono nuovi agenti all'interno di XP. Questo perché agenti che sono contenti e soddisfatti di operare all'interno di XP veramente desiderano allargare la propria rete e quindi operare con altri agenti. Ecco, la società remunera questa situazione proprio perché noi, non essendo un franchising, non abbiamo, diciamo, dei venditori o dei commerciali sul territorio nazionale che vanno ad attrarre direttamente, diciamo, degli agenti o agenzie, ma sono gli stessi agenti a fare questa attività. E poi soprattutto gli agenti immobiliari hanno la possibilità di diventare azionisti della nostra azienda con un programma azionario, oltre a ricevere premi in azioni quotate al Nasdaq, ovviamente. Secondo fattore, la comunità, un agente immobiliare XP non è mai solo, perché fa parte di questa comunità di 87 mila agenti immobiliari nel mondo, in cui può, tramite i nostri strumenti, essere in contatto con l'agente vicino di territorio, ma anche con il nostro fondatore, in maniera diretta, senza alcun filtro, e questo permette, e soprattutto con lo staff, e questo permette a un agente veramente di avere assistenza continua. E ultimo elemento, l'ultimo pilastro della nostra proposta di valore, è quello che operiamo esclusivamente e interamente su cloud. Quindi tutti i nostri strumenti, tutti i nostri tools, sono a disposizione con un semplice collegamento internet da un PC, da un tablet, da uno smartphone, e questo permette ai nostri agenti di operare, come si dice, sempre e ovunque sul territorio. Bene, possiamo aggiungere anche che un vantaggio per la gente che lavora con XP è quello di vedersi, insomma, sgravata tutta la parte amministrativa, contabile, normativa, tutte quelle azioni di back office, di fatto, che portano via tanto tempo alla produttività della gente, di fatto. E quindi, diciamo che la struttura XP è fatta apposta, costruita apposta, proprio per sostenere e supportare la gente immobiliare, anche da questo punto di vista. Assolutamente, all'interno del nostro staff abbiamo diverse competenze, una di queste è la transaction specialist, è quella che segue gli agenti immobiliari, siccome siamo noi azienda a fatturare cliente finale del nostro agente e il cliente fattura a noi di XP, seguiamo a noi tutto questo procedimento tipico di documenti dell'agenzia burocratico, quindi dell'agenzia che quindi dà l'emissione delle fatture alla tenuta ovviamente dell'antiriciclaggio, la privacy, quindi tutto quello che gli agenti immobiliari presenti attualmente ci stanno ascoltando e sanno benissimo che tutto questo viene a capo di XP. Bene, ci sono due aspetti che secondo me meritano un chiarimento definitivo, perché con le novità arrivano anche magari complessità legate alla comprensione dei modelli. XP quindi è connotata per metaverso, keyword, ok, e MLM, ok. Vuoi una volta per tutte, insomma, chiarirci questi due aspetti così magari poi superiamo, ecco, questa barriera di comprensione e arriviamo al dunque. Allora partiamo dal multilevel, ok, in Italia ovviamente è presente in tantissimi anni, è stato spesso associato a quello che è un discorso di piramide o altre cose, al nostro interno non si tratta di un multilevel e ti do una spiegazione molto molto pratica. Noi abbiamo un sistema di retribuzione, quindi distribuzione della quota ricavi aziendale, ho dicevo all'inizio 75-25, 75 diamo l'agente e 25 rimane l'azienda, quello è il ricavo dell'azienda, fino ad un certo fatturato, poi zero. Quindi quel ricavo viene ridistribuito nella rete di agenti, proprio perché aiutano l'azienda a crescere. Ecco, questo viene visto, noi abbiamo una struttura a sette livelli, linee, una matrice fondamentalmente di pagamento sulla base ovviamente del fatturato prodotto dalla rete. Questo talvolta può essere visto o è stato visto come un multilevel, ma ti faccio un esempio pratico italiano. Ultimamente in Ferrari hanno visto i buoni utili, hanno ridistribuito su tutti i loro manager e i dipendenti una parte dell'utile, ok? E quindi ad ogni grado, grazie al fatto che ognuno ha dato un contributo ad aumentare ovviamente il fatturato della società, la società ha distribuito questo utile o ricavi utile a seconda situazione. Accade esattamente la stessa cosa da noi, ovvero noi premiamo ovviamente tutti gli agenti che fanno sì che l'azienda abbia una possibilità di crescita, quindi grazie a nuovi agenti che possono entrare e questi ovviamente fatturano, questo fatturato, questo ricavo che va a beneficio dell'azienda viene una parte ovviamente ridistribuito nella catena. Quindi capiamo bene che questo sistema, se vogliamo chiamiamolo multilevel, chiamiamolo, però nella vita industriale o reale ovviamente esiste e non lo chiamano multilevel ovviamente, no? E' una ripartizione del ricavo di reale. Metaverso. Metaverso, dai, ok. Cos'è? Ne parliamo tantissimo, in Italia è un gran vociare, esiste, non esiste, non esisterà mai e così via. Fuori dall'Italia non c'è tutta questa confusione onestamente. Faccio qui un altro esempio. Allora Metaverso è già da un po' di anni che se ne parla a seguito di un libro, è stato detto, è stato definito cosa sarà, cosa può essere ovviamente il Metaverso. Ti faccio un altro esempio reale. Oggigiorno noi utilizziamo dei smartphone, utilizziamo delle autovetture, utilizziamo il treno, l'aereo, che esistono su questa terra da qualcosa anche da più di centinaio di anni, no? L'autovettura, per esempio. L'autovettura iniziale era un calesse col motore a vapore e l'abbiamo chiamata autovettura. Se la paragoniamo a quella di oggi è tutta un'altra cosa. Ecco, il Metaverso è la stessa identica cosa. Siamo in quella fase, ovviamente, di raggiungimento del top di evoluzione continua, dove, per esempio, l'azienda come la nostra, cosa ha interpretato e cos'è il Metaverso di base, nella sua essenza? È una piattaforma digitale, quindi in 3D, dove delle persone entrano in questi ambienti digitali e si manifestano con dei propri avatar. Bene, la EXP nel 2018 ha acquistato Virbelia, che è una società che sviluppa queste piattaforme in 3D per la condivisione del lavoro e la collaborazione. Quindi noi, tutti i nostri agenti, 80-7 mila agenti, ci troviamo ogni giorno all'interno con i nostri avatar per fare formazione, per incontrarci, per incontrare altri agenti e per incontrare anche clienti. Ecco, è normale che grazie a tecnologia questo modulo, questo, diciamo, tipo di tecnologia, man mano, ovviamente, sarà sempre più perfezionata e sempre più interattiva. Oggi già la nostra ha effettivamente un'interiorità molto, molto importante e quindi è fruibile da qualsiasi device elettronico che può accedere attraverso internet su un browser, per esempio, e quindi è normale che sempre di più si arriverà a quella completezza tanto annunciata magari da tanti, magari più esperti in me del settore, però arriveremo a quello. Oggi come possiamo chiamare un qualcosa che comunque quello sarà. È un po' come l'autovettura, dicevano. Certo. L'abbiamo sempre chiamato autovettura, adesso è tutta un'altra cosa, ma quella è. Non toglie questo, ovviamente, la parte relazionale, empatica, umanistica, legata proprio alla professione dell'agente immobiliare, semplicemente è un ambiente che azzera le distanze. Assolutamente. E favorisce, voglio dire, le relazioni anche all'interno, voglio dire, di questa comunità. Io spesso dico, non siamo già nelle metaverse utilizzando un WhatsApp, un account messager. Cosa sappiamo che c'è dietro a quell'account? Certo. È metaverse uguale, mi manifesto con un avatar, solo che in questo caso sono esattamente in un ambiente. Certo. Un ambiente digitale che è una stanza. No, chiarissimo. Ci sono due aspetti che so che ti stanno a cuore e riguarda per l'appunto l'inclusione giovanile e l'inclusione femminile. Perché dal tuo punto di vista XP è l'ambiente ideale per la realizzazione personale e professionale nell'immobiliare anche di queste categorie di persone? Sì, secondo me questi due elementi sono molto simili. Hanno qualche comune del nominatore. Io ritengo che siano tre, il comune del nominatore, fondamentalmente, che li avvicinano. Allora, sia nell'ambito dell'inclusione della parte giovanile, quindi dei giovani che vogliono approcciare un'attività, sia per quanto riguarda l'ambiente lavorativo femminile, quello che è la necessità è la necessità di flessibilità oggigiorno del tempo. Questo indipendentemente se una donna è madre o meno. I giovani non sono più come quelli di una volta, quando eravamo i giovani, posto fisso, quell'orario, libro solo sabato domenica. Adesso hanno molti hobby, molte passioni, quindi la necessità di avere un'attività lavorativa che lascia esprimere loro stessi e che soprattutto dia flessibilità di orario. Stessa cosa ovviamente per le donne, che se eventualmente sono anche madri, ma comunque sono mogli e così via, è ovvio che hanno necessità, per poter esprimere ovviamente se stesse, di avere anche quella flessibilità di gestione degli orari. Poi, avendo già anticipato, EXP è un luogo dove permette a questo tipo, diciamo, di due categorie, di esprimere completamente se stessi. E quindi, per quale motivo? Perché dando la libertà totale e avendo questa piattaforma, questo modello, per poter, chiediamo tutti gli strumenti per poter operare nel settore immobiliare, hanno la possibilità veramente di realizzare quelle che sono le loro, diciamo, caratteristiche. Tu si inventeranno dell'immobiliare, lo sai molto bene. L'immobiliare, noi agenti immobiliari, dobbiamo conoscere veramente quasi lo scibile umano nel settore, no? Perché dobbiamo conoscere tutto, essere psicologi, esattamente, dobbiamo essere psicologi, dobbiamo conoscere di economia, di diritto, eccetera. Bene, quindi ognuno di noi che è una personalità e magari fatto degli studi può esprimere se stesso in un ambiente immobiliare, perché magari chi è più forte nell'ambito legale, chi magari è nei social e così via. Quindi l'immobiliare, in questo caso EXP, permette effettivamente a queste due categorie di esprimere completamente se stessi sotto l'aspetto professionale. E poi ultimo, ma non ultimo, parliamo molto di parità di genere. Ultimamente abbiamo sentito anche che continuano ad essere grosse differenze anche nelle attribuzioni alle donne o anche ai giovani di prima esperienza. Che paradossale. Che paradossale. Bene, in EXP dico due cose. Stessa cosa quando abbiamo anche fatto le selezioni per lo staff Italia, così accade in ogni paese, abbiamo fatto le selezioni per il ruolo, con un budget di stipendio ovviamente, che era indipendentemente se il lavoro veniva, cioè se veniva assunto un uomo, una donna. Quindi non era un problema che veniva assunto, l'importante era che avesse le caratteristiche che noi cercavamo per curare il ruolo. Stessa cosa per i giovani. Ci sono i giovani che magari sono giovani di età, ma sono gente veramente preparata. Allora, perché io devo pagare di meno un giovane semplicemente perché è giovane e quindi in teoria non dovrebbe essere preparata. Noi sulla base ovviamente l'informazione che diamo andiamo a elevare tutti i nostri agenti a un livello assolutamente molto alto a livello professionale affinché questi, come si dice, valgano il denaro, le commissioni che vengono pagate. E appunto di commissioni una donna o un giovane agente immobiliare ovviamente non varia la commissione che può chiedere se il 3% della commissione. Questo non varia se uno è giovane o se uno è donna. Quindi ritengo per questo motivo che l'immobiliare sia un settore assolutamente adatto per queste due diciamo categorie di persone dove ovviamente nell'ambito del nostro modello EXP possono trovare grossa soddisfazione nel loro percorso professionale. Molto esalustivo, grazie. Ultimo aspetto, come si entra in contatto con EXP? Beh, molto semplicemente. Allora abbiamo un sito che è expiteli.it dove ovviamente c'è sempre la pagina contatto, altrimenti ogni martedì sera alle ore 18, ormai sono arrivato più di cento e passa webinar, è un appuntamento. È quasi un podcast. Facciamo, faccio sempre un webinar da vivo su Zoom dove in 30-35 minuti spiego tutto il modello di business, proposte di valore e entriamo assieme nel metaverso. Ok. Quindi fate un'esperienza diretta e ovviamente ci trovate su tutti i social dove siamo presenti praticamente ogni giorno con informazioni e con dei post, quindi LinkedIn, Instagram e Facebook ovviamente e anche TikTok siamo sbarcati. Ah, capito. Esattamente, dobbiamo essere. Ci va impegno, vi seguirò anche su TikTok. Ci impegno. Bene, Dennis, grazie per il tuo tempo. Grazie a te, Gerardo. E conto di vederti nei prossimi mesi per capire un po' l'avanzamento di questo progetto che ormai in Italia è da due anni. Siamo entrati a fine marzo del 2021, ormai siamo a due anni. Assoluto che farete bene. Grazie Gerardo, è stato un piacere. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Ti aspetti all'occasione del prossimo video. Grazie.